Buongiorno a tutti 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 e fino a l'ultimo perdere il controllo tu per sicuramente perdere il controllo e mi chiede il controllo mi chiede a perdere il controllo mi chiede magari, non so grazie ok a pergunta é a seguinte você acredita que o ser humano é uma força da natureza? é acredito ele é uma força da natureza e sendo uma força da natureza é capaz de destruir e construir o que? é capaz de primeiro construir e depois destrói na realidade eu acho que destrói mais rápido do que constrói a gente tem mais tecnologia para destruir no que possui quero perguntar para ele se ele acha que tem como colaborar nessa força você acha que tem como colaborar nessa força? qual força? na força da humana que é uma eco-força tem e tem mas é difícil colaborar eu acho que eu não tenho controle eu sei eu sou pessimista eu sou pessimista encontramos um pessimista isso é muito bom porque até agora tínhamos encontrado neutros e otimistas vamos investigar mais a fundo esse caso me diga uma coisa você acha que você está na idade do antropoceno? é que a gente começou a construir as casinhas e as vivas 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 e as vivas? que fazer uma peg que fazer uma pegue? um uma pegue uma pegue uma pegue eu sei que é uma coisa para lhe englande Ok. Ok? Siamo molto organizzati. Tu pensi che il controllo è importante? È importante. È importante. Sì. Sì. Sì, è possibile. Sì, è importante il controllo. In realtà, un po' di disciplina è importante. Ma il controllo è importante in quanto utopia. Non possiamo controllare tutto. Ok. Ma anche pensi che il controllo è importante? Un controllo è importante? Un controllo è importante? Se il controllo è importante, ma non è sufficiente, è importante anche... Il controllo... Se tu pensi il controllo come un caso, è un po' poco. Il controllo è essere un caos. Il controllo. Il controllo è un controllo. Il controllo è un controllo. Il controllo è un controllo. E questo io credo. Ok, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Il controllo è un controllo. Il controllo è un controllo. Perché ti preferi essere un controllo? Io penso che quando ci fanno fuori di controllo, io penso che ci sono più bello. Quindi non sei bello di essere un controllo? No, è vero. È vero. Io ho molto bello di essere un controllo, ma non mi piace quando ci fanno fuori di controllo. Io non mi piace quando ci fanno fuori di controllo. Io penso che fanno fuori di controllo di qualcuno. Non. Qual è il controllo è un controllo? Onde è il controllo? Il controllo è un controllo. Ok. Grazie mille. Ok, grazie. Come portug located in poccia. Come portugos Coin. Noi vogliamo sapere il secondo, è quello che è quello che è una forte di Natura? È una parte della di Natura. Qual parte? Non si. Alla cosa è una forte di Natura? tanto grande quanto a durante il tsunami? Un è provocado per l'altro. E' questo. E' quello che il ser humano può fare con forza ecològica? Forza forza, forza forza. Forza forza. Forza ser humano. Non c'è separazione tra l'ambiente e il ser humano. E' una cosa sola. E' questa forza non è di distruzione. E' perché la natura è di distruzione. E' la distruzione. E' la distruzione per reconstruire. Ok, molto grazie per le vostre parole. Evasco, tu sei di cristalli. Pensi che sei controllato in cristalli? Controli? Si, controli. Controli. E' la distruzione per le vostre parole. E' la distruzione per le vostre parole. E' la distruzione per il Tu vuoi fare più alcuni? Voi fare con la Marina? Si sente una forza della natura? E tu come forza della natura è capace di quello? Di creare molto. Tu senti un tsunami? Tambi, quando è necessario. Tu pensi che la Terra va a acabar? È più facile a noi. Tu lamenti per la natura della natura? Depende. Tu c'è paura della natura? Non. Tu credi in vita in altri planeti? Sì. Tu credi che ci sono extraterrestri? Com sicura. Tu credi che alcuni deli sta qui dentro oggi? Qui sape. Ok, non ci sono molto di questo. Tu senti una forza della natura? Non. Tu credi che non ha potente cambiare gli strumenti del mondo? Deve nemmeno. O che sei? O che sei? Una terra. Tu senti una intelligenza? Una intelligenza della Terra? Deve nemmeno. No, non ci sono. No, non ci sono? No, non ci sono. No, non ci sono. No, non ci sono. E tu senti una forza della terra? No, non ci sono. c'è Marte, c'è altri planeti per andare non posso stare qui Hai credito in vita fora del planeta? Ho sicuramente C'è quello che ti dirà per i altri planeti per i altri planeti in una mensagna? Dizier? OI Ok Ok Quindi vuoi fare un altro? Voi parlare in Germania Siamo molto organizzati Siamo molto organizzati Portuguesi Siamo molto organizzati Sì 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 Qua tempo? Sì 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 ma ci vedremo presto facciamo qualche domanda con queste persone humana per vedere cosa pensano del futuro ma ci vedremo ma ci vedremo ma ci vedremo ma ci vedremo non 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 cuore non è in non 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 No, no, no. Do you think that your children will have rios limpos in the future? No. I'm having a problem here with my intelligence. I'm trying to understand this human being. Do you believe that your mother believes that you will be without air in the future? No. Do you think that you are a force of nature? Yes. Do you think that you are a force of nature? Yes. Do you know something more than yes or no? Yes. Do you think that you are a force of nature? Humana. Humana is a b****. Pode ser, né? Pode ser. Muito obrigada gente. Então, acho que agora estamos praticamente acabando. Quero só fazer mais uma pergunta para esse menino aqui. Ah, pode ser você. Pode ser você. Olá. Olá. Eu quero saber se você se sente uma força da natureza. De vez em quando. Você acredita que a força da natureza de um humano pode quanto em relação à Terra? Depende. Depende. Você é um vírus? Às vezes sim. Você é um destruidor? Tento não ser. O que você já destruiu? Ambiente de trabalho. Você nunca destruiu uma usina? Não. Mas você pega o petróleo? Se eu pego o petróleo? Eu tento não usar o petróleo. Eu ando de bicicleta. Você come carne? Evito bastante. Através de comer um cuscuz com ovo. Você dá descarga no seu banheiro? Sempre. Mas eu... Desculpa. Eu não falo inglês. Eu não falo inglês. Você fala inglês? Sim. Você gosta de controlar? Às vezes eu gosto de controlar. Mas eu não gosto de controlar. Você gosta de controlar seu carro? Eu não tenho carro. Eu tenho três bicicletas. Você gosta de controlar sua bicicleta? Claro. Eu gosto de controlar minha bicicleta. Você acha que é algo natural ou algo técnico? É natural. É natural. Eu tenho que pensar nisso. Você tem uma perspectiva de controlar. Algo como uma bicicleta, que deveria ser controlado? Claro. Você acha que a natureza, a natureza, não é de controle? A natureza? A natureza? A natureza? A natureza é de controle da cidade? Sim. Não. 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 Você acha que há muitas bicicletas? Aqui? Sim. Eu não vi um aqui. Não. Ok. Eu acho que. Muito obrigado. Você é bem-vindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ninguém mais. Não. Julio. Sim. Ah. Ah. Inghilisca 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 Non penso in qualcosa Penso che l'inglesca è importante perché è il momento di questo tipo di cose Ok, non hai controllo Inghilisca Non pensi che hai controllo Penso che hai controllo della natura in quanto riguarda? Se stiamo parlando di Babylonia o Roma o Grecia è qualcosa di così oggi Penso che non è completamente un problema Grecia Penso che non è Penso che la natura in quanto riguarda la natura in quanto riguarda la natura? No 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 Ma che non è controllo? Penso che Penso che il controllo è un'occhio è completamente in quanto riguarda la nostra o in quanto riguarda la natura delle persone con le potere è un altro tipo di un'abstaccato un'occhio in quanto riguarda la natura in quanto riguarda la natura in quanto riguarda la natura è incontrollabile è incontrollabile è incontrollabile è incontrollabile Penso che è un'occhio è un'occhio in quanto riguarda la natura è perché è incontrollabile è incontrollabile è un'occhio in quanto riguarda la natura è incontrollabile è un'occhio è un'occhio voglio non essere più controllato e tutto diventa un tsunami nella mia volta non controllato mettere la mia bocca ok, finisce finisce grazie 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 a Patrio Vazio grazie a Patrio Vazio grazie a Patrio Vazio per la collaborazione grazie a Patrio Vazio molto bene mia famiglia mi piace Vierna grazie tira una shotta mia con un astronauta Grazie.